Buongiorno ragazzi, questo video è sperimentale, nel senso che noi dobbiamo capire, facendo un esperimento, come si fa ad utilizzare il volmetro e l'amperometro. Molte volte nei libri è molto difficile in realtà capire poi effettivamente dai libri come per fare un esperimento bisogna mettere il volmetro e l'amperometro e si rischia o di fare una misura errata o peggio di distruggere uno strumento di misura. Poi vedremo, quindi bisogna stare attenti. Intanto quello che vedete nella foto è un multimetro. Il multimetro, ok, multi cosa vuol dire? Che può misurare tante cose e adesso ve lo faccio vedere nel senso che non è niente di che. Se misura, ok, è in grado di misurare tante cose, quindi è in grado di misurare la resistenza, è in grado di misurare la tensione o meglio la differenza di potenziale e poi è in grado di misurare la corrente. Allora, ovviamente ad esempio se, vabbè ci sono anche i fondoscala, ad esempio se io faccio così vuol dire che al massimo sarò in grado di misurare una differenza di potenziale di 6 volt, così di 60, così di 600 e così di 1000. Quindi se so che la differenza di tensione viene più o meno 3, non ha senso andare su 1000 perché ovviamente sarà poco sensibile. Non ha neanche senso andare su 60 perché sarà poco sensibile. Non ha senso andare su 600 millivolt perché raggiunge il fondoscala, ok, e quindi non legge 3, quindi andremo su 6, vabbè, ovviamente questo quindi, il multimetro funziona da volmetro se agisci in questa scala. Agisce invece da amperometro se tu appunto vuoi misurare la corrente che passa in un ramo e quindi vai da 60 micro, quindi 60 per 10 da meno 6 ampere, fino a 10 ampere. Allora, adesso io ho creato un piccolo circuito veramente molto semplice che è fatto da, vabbè, qui c'è un set di resistenza ma noi utilizziamo soltanto questo piccolo circuitino, quindi partiamo dal generatore. Il generatore è questo set di pile, ogni pila è 1.5 volt, quindi qui saliamo di 1,5, qui saliamo di 1,5 e quindi questa può essere vista come una pila unica con una differenza, ok, di potenziale uguale a 3. Poi, qui c'è un interruttore, ok, perché adesso io non voglio che il circuito continui a sprecarmi energia. E poi cosa succede? Quindi la corrente, vedete, il ramo è unico perché passa attraverso l'interruttore, passa attraverso questa resistenza, passa attraverso la lampadina e si ricollega qua. Quindi, se io volessi fare un circuito, diciamo, volessi fare uno schema di questo circuito, non è che sia così difficile, nel senso che adesso, ok, posso fare dall'alto una foto e poi andarla a mettere qui. E poi andiamo a, appunto, vedere, in un momento facciamo lo schema e poi andiamo a vedere come si può andare a misurare una differenza di tensione o una corrente. Allora, ragazzi, l'idea qual è? Se io voglio fare uno schema, allora, semplicemente, vado a mettere la mia pila unica, di qua. Quindi ho la mia pila, con tre volte. Poi ho l'interruttore, quindi semplicemente filo, filo, quindi l'interruttore è questo Marchingegno qua. Quindi ho fatto la mia pila, poi, va bene, i fili, l'interruttore, che è questo qua, poi un filo che mi porta ad una resistenza, quindi questa parte qui è semplicemente una mia resistenza, di 5 Ohm, e poi c'è attaccata una lampadina che in realtà ho misurato la sua resistenza e 1.8 Ohm, quindi anche la lampadina funge da resistenza, e poi la pila è, vedete, la lampadina è collegata all'estremo negativo della pila. solitamente il meno per quanto riguarda, sì, il meno è il nero e il più è il rosso per quanto riguarda le pila, e quindi abbiamo anche lei, che è questa qui, vedete, alla fine che era un circuito non è così difficile. E quindi noi adesso sappiamo benissimo, alla chiusura del circuito, cosa succede. Comincerà a passare corrente in questa direzione, questo è un unico circuito, quindi se questa è una resistenza di 1.8 Ohm e questa di 5, si va a creare una resistenza equivalente, intanto sono in serie, di 6.8 Ohm, in più sono curioso ragazzi di andare a misurare, perché a cosa serve il volmetro, di andare ad esempio a misurare solo la caduta di potenziale ai capi di questa resistenza. Come si fa? Allora, in realtà la misura del volmetro è più intuitiva, nel senso che, adesso poi lo scrivemo bene, il volmetro va messo in parallelo rispetto all'elemento che io voglio misurare. Quindi, semplicemente, cosa vuol dire mettere in parallelo? Prendo i miei terminali del multimetro e faccio una cosa molto semplice. Intanto attivo su questo multimetro la sua lettura di potenziale e quindi vedete che sicuramente andrò mi metto a 6 volt, ok? Potrei anche andare a 600 mili e vedere se va in fondo scala. Mettiamo 6 volt, è comunque sensibile, tanto 6 volt non li supera, perché la P insieme fa 3, quindi sulla resistenza sicuramente cadranno meno di 3 volt, perché l'energia non può nascere da nulla. Ma, ragazzi, semplicemente mettere in parallelo è una cosa molto semplice. Faccio prima a farvelo vedere che a spiegarvelo. Se voglio vedere la caduta di tensione sulla su quella resistenza lì, beh, intanto faccio una cosa che non ho ancora fatto. Cioè, accendo e dovrei vedere due cose. Beh, intanto la lampadina che si accende, ok? E poi questa resistenza che si scalda, ok? Per effetto Joule. Adesso, infatti, si sta scaldando, non la sento ancora, ma tra un po' non riuscirò a tenere il dito sopra. Allora, si vede sempre la lampadina accesa. Adesso, se io vado a... Se voglio, ragazzi, misurare la caduta di tensione, ad esempio sulla resistenza, mi sono già messo lì, e quindi vado a mettere, vedete, il pin nero qua e il pin rosso qua. E vado a leggere una caduta di tensione. Ad esempio, io leggo 0.983. 0.900, sì. Balla tra il 2 e il 3. Apriamo. Ragazzi, qual è l'idea? Allora, l'idea è che quindi io ho fatto esattamente così. Se voglio misurare una caduta di tensione, come va messo quindi il mio volmetro? Allora, un pin va messo qui, un pin va messo qui, e qui ci metto il mio volmetro. va messo in parallelo rispetto alla resistenza di cui voglio misurare la caduta di tensione. E quindi, intanto lo scrivo, nel senso che il volmetro va messo in parallelo rispetto all'elemento. Secondo voi, il volmetro deve avere al suo interno una resistenza gigantesca o una resistenza piccolissima, perché il volmetro, come l'amperometro, deve misurare delle cose, non deve cambiare il risultato, perché ovviamente, e adesso vi dico una cosa molto importante, ogni volta che vi fate una misura state modificando il sistema, ma io vorrei misurare il sistema in modo che il misuratore non modifichi il sistema, perché altrimenti io sto andando a misurare non più questo circuito qui, ma sto andando a misurare questo circuito qua, nel senso che il volmetro potrebbe andare a misurare, non dico direttamente se stesso, ma indirettamente se stesso, ok? Perché ovviamente, vi faccio un esempio, facciamo una cosa molto stupida, se la resistenza del volmetro fosse molto piccolina, quindi ad esempio se questa è 5 Ohm e questa magari 1 Ohm, io faccio una cavolata atomica, perché? Perché se prima la corrente passava tutta di qua, semplicemente perché non c'era questa possibilità, adesso sulle resistenze piccoline, ok? Visto che queste due resistenze sono in parallelo e hanno lo stesso delta V, secondo voi la corrente preferisce passare si biforica verso le resistenze basse o quelle alte, ovviamente verso quelle basse, ok? perché a parità di delta V, delta V uguale a R per I, R per I sono inversamente proporzionali, quindi vuol dire dove la resistenza è bassa passa un botto di corrente, quindi succederebbe mettendo il volmetro in parallelo con una resistenza piccolina che tutta la corrente passa di qua, mentre praticamente passa pochissima corrente attraverso la resistenza in 5, cioè sono andato a modificare il mio sistema perché adesso ovviamente ok, il volmetro va a misurare questa qua ma questa qui è diventata molto più piccolina come delta V perché non passa più corrente quindi il volmetro va a misurare se stesso quindi capite che perché il volmetro in realtà deve avere una resistenza elevatissima ok? rispetto a tutte le resistenze sì, a tutte le cadute di tensione che può misurare è logico quindi deve il volmetro e perché deve avere una resistenza elevatissima perché così se ad esempio qui facciamo un esempio senza il volmetro qua passa un ampere e il volmetro magari ha una resistenza di un milione di ohm quindi un mega ohm poi potete magari informarvi sulle resistenze davvero che hanno i volmetri magari ce ne sono ancora più alte cosa succede ragazzi che in questo modo la corrente che passa di qua è piccolissima ok? dobbiamo cercare di prendere di non modificare il sistema ok? noi non vogliamo che in questo ramo passi della corrente però un po' ci passa perché non esiste un volmetro a resistenza infinita ok? lo devo prendere il più grande possibile bene e quindi il volmetro deve essere messo in parallelo e deve avere una resistenza sicuramente molto più grande delle resistenze in gioco ma molto più grande ok? quindi deve avere una resistenza diciamo enorme sicuramente molto più grande di tutte quelle in gioco ma di ordini di grandezza e fin qua diciamo non è così difficile secondo me il volmetro è poi uno strumento di misura relativamente facile si mette in parallelo ovviamente perché ragazzi si mette in parallelo perché due quantità in parallelo hanno la stessa delta V io voglio misurare la delta V bene secondo voi invece come si può misurare il passaggio di corrente perché invece l'amperometro non è così scontato perché uno di ignoranza farebbe la stessa cosa no? metterebbe i due terminali per vedere ad esempio ragazzi la corrente che passa su questa resistenza metterebbe i due adesso vabbè l'interruttore è aperto quindi non succede niente metterebbe i terminali qua ecco farebbe una cavolata e poi tra l'altro andiamo a vedere se ciò andrebbe a distruggere il strumento di misura o non succederebbe niente l'amperometro invece deve misurare una corrente quindi visto che deve misurare una corrente non deve essere messo in parallelo ma deve essere messo in serie perché due elementi hanno la stessa corrente quando sono in serie quindi dove lo metto l'amperometro? l'amperometro lo devo mettere qua visto che deve essere in serie devo creare ok una serie quindi l'amperometro va messo qua l'amperometro non deve deve essere quindi messo in serie perché solo gli elementi in serie hanno la stessa corrente definizione però non deve cambiare che cosa ragazzi la misura cioè se prima qui passavo un ampere non è che adesso se metto l'amperometro passa 08 altrimenti io poi misuro 08 ma non è l'1 ampere che io volevo misurare quindi secondo voi l'amperometro per non modificare il sistema cioè c'è ma è come se non ci fosse deve avere una resistenza bassa o una resistenza alta? allora ovviamente deve avere una resistenza bassa e perché? perché ragioniamo al contrario se l'amperometro avesse una resistenza gigantesca e beh in serie cosa succede? avrei una resistenza equivalente gigantesca perché devo fare la somma quindi se questo fosse 5 ohm questo 1.8 ohm e l'amperometro 500 ohm capite che il delta V non è più 3 diviso 6.8 ma è 3 diviso 608 quindi la corrente cambia in modo drastico cambia in modo drastico la corrente che passa dipenderebbe dal fatto che io ci ho messo dentro l'amperometro e invece lui deve essere un fantasma per essere un fantasma deve avere una resistenza piccolissima molto più piccola delle resistenze in gioco quindi in questo caso molto più piccola di 1.8 ohm quindi per leggere la corrente deve avere la stessa corrente del ram in cui passa quindi deve essere in serie e la sua resistenza deve essere piccolissima quindi vedete che volmetro e amperometro si comporta in maniera esattamente contraria ora cosa succederebbe quindi se io mettessi poiché sono un delinquente invece in parallelo un amperometro cioè facessi così intanto l'amperometro è costruito con una resistenza molto piccola ok perché infatti non è fatto per essere messo in parallelo succederebbe semplicemente che cosa? allora se questa resistenza è molto piccola quella dell'amperometro e questa resistenza fosse molto grande semplicemente allora noi sappiamo che mettendo due resistenze in parallelo la resistenza viene più piccola della più piccola quindi sicuramente verrebbe una resistenza equivalente a questi capi più piccola di quello dell'amperometro ok quindi questo sistema non esisterebbe più esisterebbe un'unica resistenza iper piccola praticamente pari a quella dell'amperometro ok e quindi visto che poi quello là è in serie io vado a diminuire la resistenza quindi vado ad aumentare anche di molto la corrente che ci circola dentro quindi sull'amperometro io vedrei un passaggio di corrente molto più elevato ok perché semplicemente ho fatto una cavolata quindi spero che abbiate capito magari pensate anche cosa succede se metto un volmetro in serie un volmetro in serie con una resistenza molto piccola pensateci un po' divertitevi e comunque questa ragazzi è l'idea quindi ragazzi come si fa a misurare la corrente sperimentalmente perché poi tra la teoria e l'esperimento passa sempre allora se io voglio misurare la corrente quindi su questo ramo devo ad esempio vabbè l'interruttore è sempre aperto così nello sporco di energia tolgo questo e lo sostituisco con il multimetro ok faccio così semplicemente perché così la corrente che io voglio misurare passa attraverso effettivamente il multimetro cioè appunto il disegno è che quindi vado faccio la pila poi passa attraverso l'interruttore va bene poi passa attraverso la resistenza poi passa attraverso il multimetro che come vedete ho dovuto ovviamente cambiare perché questo qui è sempre il com diciamo è sempre la parte nera però se voglio misurare la tensione devo metterlo qui se devo misurare la corrente devo metterlo qua qui mi dice un massimo di 600 mA io non sono tranquillissimo quindi a metterlo qua lo metto dove qui c'è un massimo di 10A quindi ok bisogna anche saper utilizzare un attimo questa cosa senza distruggere lo strumento di misura e niente adesso io cosa faccio appoggio ok tutto qui mettiamo contro luce questo così vediamo un passaggio di corrente vado ad accendere il mio interruttore per vedere che passa corrente devo vedere che la lucina si accende vado a stringere sui miei terminali e vedete che la lucina si accende e automaticamente qui faccio ombra così si vede passano circa 0.20 ampere 200 mA ovviamente se io stacco non c'è più passaggio di corrente logico perché lui fa parte del circuito lo chiudo ok quindi segna che la lampadina si accende quindi passa corrente e appunto passano però si veda 0.20 ampere quindi avete visto che l'ho dovuto mettere in serie